Non hanno tardato a farsi sentire le reazioni politiche di marca leghista alla notizia delle sanzioni inflitte al gestore del centro accoglienza profughi di Colorina, colto ad impiegare personale in nero che però si è visto risparmiare la più severa misura della sospensione dell'attività in ragione della presenza nella struttura di 69 profughi difficilmente collocabili nell'immediato in altro luogo. Ma la vicenda si è trasformata in un conflitto istituzionale dai toni vibranti, vergognoso che chi infrange le regole venga graziato dal prefetto per tutelare i profughi, tuona il senatore Johnny Crozio. Fosse accaduto a qualunque altro operatore si sarebbe visto chiudere l'attività, prosegue il parlamentare del Carroccio. Chi invece si arricchisce dando vitto e alloggio ai profughi, lautamente pagato dallo Stato, può infrangere le regole e avere lavoratori in nero se la caverà con una multa e potrà continuare la sua attività come se nulla fosse accaduto. Nel mirino del parlamentare di Dubino c'è il prefetto di Sondrio cui Crozio pare attribuire la decisione di avere orientato un provvedimento più tenue verso i gestori di Villa dei Tigli, ovvero non la sospensione dell'attività ma delle sanzioni, di cui le accuse alla massima autorità dello Stato in provincia e la conseguente interrogazione insieme al deputato Nicola Molteni ai ministri dell'interno della giustizia e del lavoro. È un fatto di assoluta gravità in calza illeghista che arriva addirittura a invocare la chiusura della prefettura. Immediata la replica del prefetto di Sondrio Giuseppe Mario Scalia che smentisce il contenuto delle dichiarazioni di Crozio. Sulla vicenda di Colorina non ho preso nessuna posizione ne ho dato alcuna disposizione, afferma indignato Scalia. Crozio con un'uscita intempestiva mi attribuisce la paternità di una decisione che non è mia e che evidentemente è stata assunta da chi si è occupato del caso. Avrebbe dovuto chiamarmi prima di esternare in quel modo e assumere un'iniziativa in tal senso, aggiunge il prefetto che ha subito chiamato il parlamentare ottenendo da lui le scuse. Quando vedo cose sbagliate non esito ad intervenire per correggerle. Il male io lo combatto, afferma il prefetto. Sulla questione dei profughi l'ho già dimostrato intervenendo nel caso di Ardenno con la chiusura della struttura.